Sbagliano vittima del loro agguato e si danno precipitosamente alla fuga. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso ad un chilometro dalla discarica di Forcone Caffiero nel territorio di Cerignola. Episodio inquietante portato all'attenzione dell'opinione pubblica dal sindaco della città ofantina Antonio Giannatempo. Come raccolta il primo cittadino due persone avevano ostruito la carreggiata con dei rami di albero per costringere la vittima designata a fermarsi con la propria auto. Quando però i due malviventi si sono accorti che il primo automobilista a trovarsi di fronte all'ostacolo non era il loro bersaglio si sono dati alla fuga. L'episodio però fa tornare alta l'attenzione sul fronte della criminalità. Chi fosse il vero bersaglio di quell'azione lo chiariranno le indagini delle forze dell'ordine mentre il sindaco Giannatempo torna a chiedere una intensificazione dei controlli nel territorio di Cerignola. Quanto accaduto nei giorni scorsi commenta il primo cittadino desta preoccupazione perché conferma che la criminalità locale non si ferma davanti a niente riuscendo a muoversi a suo piacimento in qualsiasi punto e a qualsiasi ora. L'episodio avvenuto a poca distanza dalla sede della SIA, la società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, potrebbe essere legato anche alle tensioni degli ultimi tempi con le tante richieste di lavoro giunte alla SIA. Aspettative occupazionali che vengono ridimensionate dall'amministratore unico della società Francesco Vasciaveo. Al momento non esistono possibilità lavorative né in SIA né nell'ambito territoriale gestito dall'azienda.